Il CSI non deve confondersi con altre istituzioni, deve rimanere se stesso molto semplice e riuscire a diventare sale, come dice il Vangelo, a diventare l'elemento che cambia dentro alla massa, dentro alla pasta, come si dice. E vorrei, così la mia idea era che il CSI fosse un aquilone, basta poco per fare un aquilone, però l'aquilone ti dà felicità, ti congiunge col cielo, metti insieme nonni e nipoti, soprattutto metti insieme un sogno. Io ho sognato proprio che il CSI fosse un movimento che va al cimitero e che riesce a smuovere in cimitero la gente e ad un certo punto le cruci del cimitero piano piano vengono portate in cielo, non solo le cruci ma anche l'anima dei defunti, ma soprattutto che riuscissimo noi a far diventare sereni, belli, profondi e veri, tutti, tutti, cimiteri compresi, questo è quello che penso io.